Siamo escapati da Libia per la guerra, è arrivato qui, arrivato qui in Italia. Siamo escapati, non siamo escapati di lasciare il nostro paese per un motivo diverso, per le politiche e le sociali. Allora, stiamo, stiamo in Libia e viviamo bene, lavoriamo bene. E guardiamo un po' di tante cose che non possiamo dire tutti. Quando arrivato la guerra, la nostra situazione è diventata molto percolosa. Loro si considerano, come la metinario di Gaddafi, la nostra situazione è diventata molto percolosa e siamo dovuti a scappare in Libia perché c'è la guerra. Siamo arrivati in Libia il 13 maggio 2011, siamo qui, in Trentino, e viviamo malissimo. Non abbiamo documenti, viviamo senza documenti. Allora chiediamo a tutti i popoli di Trentino di aiutare noi, di aiutarci noi. Almeno un documento, documenti umanitari almeno un anno. Dobbiamo preservare la nostra vita, per fare qualcosa della nostra vita. E noi siamo che si vivano senza documenti. Cosa può fare, cosa può essere, magari essere come criminario e che non vogliamo fare. E noi vogliamo la nostra dinta. E quella è la nostra dinta. La dinta è di trovare una cosa per noi. Noi abbiamo bisogno di chiedere sempre a qualcuno e di dare così, fare così, fare così. Non è quello che vogliamo. Vogliamo fare una cosa per noi, solo nella nostra vita. E quello è quello che vogliamo. E chiediamo a tutti i popoli di Trentino di aiutare noi. Grazie. Bravo, bravo. Grazie. Grazie.